Le tre vie io non riesco a fare a meno della filosofia. Commento Se siamo attratti dalla filosofia che i maestri materiali inseriscono nella via della conoscenza, solo quella ci è utile per evolvere. Le altre due vie sono la via del misticismo e la via dell'azione. In genere queste tre vie si affacciano nella storia reincarnativa dell'individuo secondo questa progressione. Per prima si sperimenta la via dell'azione, per seconda la via della conoscenza, per terza la via del misticismo.